La cooperativa La Baranza Ciao, mi chiamo Fabrizio e sono il responsabile del laboratorio delle catacombe di Napoli. Ora qui questa domenica stiamo ospitando un laboratorio di ceramica. Noi ci teniamo tantissimo che l'incontro con le famiglie diventa ancora di più un donare. Mi chiamo Sara, sto facendo un vaso con l'argilla. Thomas, un vaso. Abbiamo visitato le catacombe di San Gennaro e sono bellissime. Consiglio a tutti di fare questa esperienza, molto bella. Cioè far conoscere ai bambini comunque altre attività come la ceramica, che non sono attività comuni. Adatta a tutti, ai nonni che potrebbero accompagnare i nipotini. Grazie. 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 Grazie.